Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Handys Knight Siamo nel livello retrograde Retrograde Ok, e andiamo Oddio mio, oddio mio Meno, oddio, ricordo Ricordo tutto Sul come ho chiuso Il gioco La volta scorsa, con quale Con quali pensieri ho chiuso Il gioco la volta scorsa Oh, santissimo Dio Oh, qualsiasi altra divinità che vogliamo cambiare In causa in questo caso Cresco a fare così? Ok Fammi vedere Avanti, indietro Ah, era proprio l'ultimo livello Della zona retrograde Ah E giustamente cade Perché così non puoi recuperare Il tumore Facendolo dalla via Possibilmente più facile Dio Santissimo Quanto odio L'universo A volte No, vabbè Sono io che qua Ho cercato di bararmela Lo so Lo so Andiamo a recuperare Quel tumore Devo soltanto Stare attento A questo salto Comunque Vi chiedo scusa Per Per i Ok Per i Problemi di caricamento Che ho fatto Nella scorsa settimana Oddio Bel cambio di stile Sinceramente Devo capire come passare Però Wow Bel cambio di stile Oddio Questa sapevo anche Il nome Un tempo Il tumore Dovrebbe essere Oh L'ho visto Perché sono morto Comunque Scusa per i Problemi di caricamento Negli scorsi video Però Mi sto pigrizzo Mi sto Cose da fare Mi sto Studio Mi sto Tante cose Da fare Non sono riuscito A caricare Cioè Caricare A Preparare i video E poi caricare I video sono Giustamente Come avete potuto notare Anche dalle affermazioni Che ho su Le giornate E tutto Sono già registrati Ogni cosa Però aspetta Non è un metodo funzionale Vero No Non è un metodo funzionale Però devo provare A vedere Se funzionasse O meno Perché muoio Non capisco Perché Muoia Lì Troppo veloce Mi schianto Sulle Sulle prese No Porca Ci avevo fatto Credo di essere morto Perché non mi vedevo Giustamente Perché c'è il fumo Al cavolo Maledizione Comunque Sì Vi chiedo scusa I video sono caricati E niente Ehm Non ho niente Non ho tanto Di cui parlare A livello relativo Oltre Sto studiando Yeah Ehm Non so Non so Quanto a voi Possa interessare Come cosa E basta Sto studiando E niente È la mia vita base Ammetto Non sto facendo Niente di interessante Tra un bel po' Dovrei Trovarmi un hobby Oltre a videogiocare Dovrei 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 Porca puttana Già la seconda volta Che lo faccio E faccio la cazzata Ma è più veloce Aspetta Ok Non riesco D'appliare Quale di due metodi Sia più veloce E ovviamente Non posso saltare Da un lato all'altro Lo so Grazie gioco So che Ash Volevi tentartelo Però Ok Ok Ora che siamo fuori da qui Posso tranquillamente Parlare di cose a caso Ehm Sì Dovrei trovarmi Un hobby Oltre al videogioco Vabbè La programmazione Ormai la sto La programmazione La sto studiando ancora Quindi Boh Lettura Però il fatto che Da quello che ho notato Per come funzionano Funzionano Su Su Youtube Parlare di Di libri In un video In un In un Video Su un videogioco Non ha molto Non Non Attira molti di voi Ecco Quindi la cosa è puramente Concettuale Però Ditemi se vi interessa Qualche libro in particolare Che conosco Cioè io Principalmente Leggo fantasy Però Anche ogni tanto Qualche cosa A livello Filosofico Eccetera Quel Quello Libro di filosofia Lo leggo Anche se Possiamo dire Che non è Non fa per nulla parte Del mio Grupo di studi Però è una Piccola passione C'è qualcosa di che Non comprendo Tipo Dovrei saltare In un altro momento Oddio Ok 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 Ciao Entra ed esci E facciamo questo livello Come Vorrebbe Come Se non esistesse Quel tumore Perché così posso Prendere il tempo Bene Olè Allora Uno Due Oddio Mio Non li avevo visti Comunque Se ti interessa Che Magari ci possiamo Fare una chiacchierata Mentre c'è tutto Intanto Giusto per dirvi Ovviamente Siamo in periodo Un giorno capirò Come aprivo le porte Siamo in periodo Si può scendere Da qui pezzi di merda Siamo in periodo Prenatalizio Oddio mio Oddio mio Che figata Ovviamente Non posso Altarlo Come devo rifare Conta come Dell'acqua Però ovviamente Non posso saltare Quindi Come dovrei muovermi Basta fare una cosa del genere Si a quanto pare Però non basta Fare una cosa Di quel tipo Mai nella vita Va bene In ogni caso Si ditemi Se vi interessa La cosa Che Posso vedere Di Prepararlo È un mezzo Uffermismo Però Posso vedere Di Come cazzo Dovrei fare Ora Oddio No Porca Mi sono cagato In mano Più volte In quella cosa Però ok In In quella situazione In ogni caso Ditemi se vi interessa O meno Intanto Questo video Dovrebbe uscire Presto Per fronte di altri Sì Messo Prima finisco qua Mi metterò Credo A prepararli Gli altri Tre video Che ho già pronto Gli altri due video Scusatemi Non c'era un terzo Che ho già pronto E forse magari Potrei anche Preparare Maledetto me Potete tranquillamente Insultarmi Per questo Un altro episodio Della Deus Vult Su Darkest Dungeon Allo stesso tempo Per notare Non ho Niente Di speciale Da fare Perché oltretutto L'unica cosa Devo poter fare E preparare il video In uscita in anticipo E magari Questa volta Uno che faccio gli auguri Potrei farlo Questo che non l'ho fatto L'anno scorso Ok Stardo E ora E ora Come E ora Come dovrei fare Non capisco I don't understand Il coso è abbastanza ampio Per salire A sopra Quindi Arrivato Lì Arrivato qui Sopra Non ci posso salire E non vi ho neanche troppo L'utilità Non è arrivato qui Quindi Interessante Carino Sì si è in bel posto Ok Si fa così Perfetto Perché mi voglio male Eh l'ho visto Che c'è Non posso più Schipparlo Dopo che l'ho visto Stavo Ho pensato Per un Ammetto Che ho pensato Per un anno Secondo Di ignorarlo O L'ho pensato Però Ok Non c'è niente Di Troppo Qui Andando a destra Va bene Ok Tutto normale Megatumore acquisito Perfetto Grazie Fammi uscire da questo dato Perché non sono andato a sinistra E quindi Si Una parte di me mi dice Va bene Vai a sinistra Leone Vai a sinistra Oddio Santissimo C'è un click Come 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 ho fatto Come ho fatto Come ho maledettamente fatto Non lo so manco io Ok Perché lo sto facendo Non lo so neanche io Però va bene Ormai Ho deciso Che mi voglio male Sotto più punti di vista Quindi Tanto vale Continuare A volersi male No Non c'è un megatumore qua Cosa c'è Indiprendibile Non lo vedo Devo andare Dovrò andare avanti Perché non riesco A concentrarmi su tutta la mappa E allo stesso tempo Schivare proiettili Quindi Via a sinistra Ah Megatumore Non volevo tornare indietro Volevo provare a parlare Con i tizi Però ormai È troppo tardi No time to explain A quei tizi allora Ok Speravo Il trucchetto è tipo Riuscire ad arrivare Ai lati Attaccato ai lati Però Allora È molto strana La fisica Quindi non capisco No Non hai lati Devo arrivare Al centro Forse arrivando Alla fine Forse c'è una cosa Del genere Prendendo Tutto un altro Approccio Forse Magari Prendendo Tutto un altro Approccio Il livello Diventa anche Molto più semplice Del normale Tumore Là c'è una chiave Abbiamo finalmente Cominciato a trovare Delle chiavi Tipo a fine gameplay No esattamente Fine gameplay Però Siamo lì Eh Là c'è una chiave Quindi che non la prendo Non so Quale serve Potrà servir Per aprire qualcosa Ok Ho preso Una chiave Bisogna tornare Indietro Giusto È arrivato il momento Che io odio Nei videogiochi Che molti apprezzano Che io odio Che è il momento Backtracking Ok Perché io non vedo Roba da poter Aprire Oddio mio C'è un pulsante Oddio mio Perché l'ho visto Maledetto a me Faccio una abbastanza Veloce Questa zona Diventa triviale Perché ho visto Quel pulsante Oddio Santissimo Quanto mi odio Per giocare A questo gioco Tanto Tantissimo Oggettivamente Parlando C'è quel pulsante Vabbè Sentite Andiamo Se avrò bisogno Di così tanti tumori Per il vero finale O cosa del genere Non cosa per il vero finale In questo gioco Per come sta andando Credo che è di fuori Delle mie capacità attuali Di farci un gameplay Tranquillo Ecco Non del futuro Come ho fatto con Super Metroid A un certo punto Lo riprendo E Lo completerò Negli anni Prima o poi Al 100% Super Metroid Ho fatto la stessa cosa Soltanto che Ovviamente Super Meat Boy Era più un platform Classico Quindi Mi faceva Odiale di meno L'umanità Confruttare questo gioco Non che lo vi piaccia Però ovviamente I platform classici Per me Hanno un particolare fascino Che mi riporta In infanzia Questo significa che No Non mi sta riportando All'infanzia Però mi sta riportando A un luogo Molto simile Al circolo Dei Circolo Sì Ciò posso fare Aspettate Al girone Dantesco Dell'inferno Dove ci sono i bestemmiatori Molto probabilmente Quindi Niente Ok Scusate È difficile Parlare A questo tempo Non imprecare Contro la mamma Di Chiunque In questo momento Soprattutto In un momento Dopo in cui Ho capito Come devo fare Quella zona E dov'è Adesso La zona In cui Dovevo andare Torniamo indietro Eccola qua La chiave E ho speso La chiave Va bene Quindi adesso Abbiamo sbloccato Questa zona Quindi in teoria Io potrò tornare indietro E aprire altre zone Con le chiavi Ok Qua per poter andare Viene sacrificato Cosa succede? Rieppare Scompare Come funziona Amico Entra Riesci Entra Entra Riesci Non morire Si può fare Veramente In un ciclo Oh che si può fare In un ciclo Purtroppo Per me Potrei guardare Potrei vedere Un attimino Se respawna Così magari Evito di Dandarmi l'anima Vediamo se muore O respawna Prima o poi Dai Cade Ok No Devo farlo Al primo ciclo Questo Sembra il metodo Più veloce Puoi correre Così E poi Infilarsi Qua Prendi questo Cazzo di cosa Entra Riesce Se facciamo Il livello Normalmente Ok Perché Oddio no Scusami Un momento Sbagliato Ora Porca puttana Ti mette ansia Poi a fare sti salti facili Ok Qui Ho capito Come Non volevo Averlo capito Ammetto Ci sono cose Che non volete Capire Della vostra vita Come tipo Se io Lo prendessi La in volo Sarei molto Più tranquillo Del su me stesso Dimmi che Sei abbastanza Dero Cioè No Ma quando mai Ah e Arrivano Comunque Perché Siamo Un gioco Molto Femini Friendly Quindi Non posso Staccarmi Neanche più Tanto Del coso Oh Bello Però Vediamo se Esco a barare Il ciclo In qualche modo Interazione Giusta No Ovviamente È lato Sbagliato Muoio Ora No Secondo dopo Un due tre Via Arrivo qua sotto Metto qua E non mi raggiungono Ok Qui posso Stallare Per il tempo E sono E sono ritornato All'altra parte Bello Mi piace Ok Dai L'idea c'è Devo soltanto Calcolarla Bello Mangiatemi Grazie Perché C'è una cosa Del genere Riesco Ad arrivare Qua Dove I cosi Non Non si attaccano No No Ma gli ho Triggerati Perché Se li triggerate È la fine Bene Un millimetro E mi basta Secondo Un due tre Preso Alla prima Ora posso Anche abusare No Non fatelo Non fatelo Amici Fatto che Non morire Ok Torna indietro Puoi svolgere il livello Normalmente Leone Uff Uccidetemi Grazie Sinceramente Per tutti i giochi Che ho giocato Questo sta richiedendo Forse la maggiore dose Di Sofferenza Per poter essere finito Non che non vi stia piacendo Però Ho paura del mio lato Masochista Che si sta venendo a creare Piano piano In questo canale Molta paura Veloce Ok Adesso devo semplicemente Scendere veloce Andare a destra Quanto siamo a minuti di video Diciannove Diciannove soltanto Mi sembra che siano passati Quanto anni d'età Un Due Tre Quattro Va bene Ci sono a livello Ideologico Teorico Dai E a sto punto Prova a finire Anche il livello E vabbè Però Troppo gridi Troppo gridi Potrò tornare Tranquillamente indietro Ma che gusto C'è a tornare Tranquillamente Indietro Quando Posso provare A finire Un livello difficile A una Singola Botta Qui No Mi salto massimo Non porta nessuna parte Portami qui Comunque Sono soltanto io A pensare che Questi Sound effect Dei tizi Che Bleh Fanno così Praticamente Mi piace C'è l'unico modo Per Per Descrivere Questo sound effect Questo Che che hanno chiamato Per fare Un Un doppiaggio Di questa Di questo schifo Sinceramente Vorrei Saperlo Mi sa che Sarà una delle poche volte In cui starò molto Attento ai crediti Per sapere Se c'è scritto Voce mostruosa Numero 27 O meno Ok Sono tre salti Un salto Cazzo dico tre Due in realtà Uno medio Uno alto Uno basso Uno Devo starmi Semplicemente Fermo Ma Scusi Scusi lei Per lei Intendo me Ho To È diventato Tutto Un livello Molto meno Complesso In cui Non devo Ripetere Un'azione Stupida Ripetutamente Poi se so scemo Io Non è che ci posso fare Tanto Sono motivi come questo Magari che Sono stressato Anche al di fuori Dell'università Dovrei pensarci Più spesso È veramente Il mio canale Utile Per la mia salute Mentale La risposta Credo che sia Un vaghissimo No Olè E qua È molto più facile Come cosa Ah Grazie Ciao Tu rimani là A meno che Non ho Veramente Bisogno Di te Ah Voi Voi Simpatici Voi Vediamo Potevo rimbalzarvi Sopra Se mi ricordo Mene Lo scopriamo Molto presto Però Quanto meno Mi fate uscire Fuori Dalla vostra Zona Di interesse Quanto siete felici Di portare disperazione Nella mia vita Andiamo tutto Al primo giro Ok Non posso scendere Da questo viaggio Però posso Guardare Da Sì Devo capire Adesso come recuperare Invece quello lì Tipo Uno Due No Non è Quello il metodo Come devo fare Per prendere Quel tumore Perché non posso Arrivare lì È nella Nuvola di Nuvola di fumo Di questi cosi Anche se salto Tipo al massimo Da questi cosi Non riesco A raggiungerlo Esco malappena Dalla loro Nuvola Nuvola d'azione Potrei finire Sì Così Ok Sì Me lo rifaccio Però Devo riprendermi Quel tumore Non me ne frega Ci sono due zone Andiamo a vedere Quella in alto Perché la prima Ovviamente Sarà quella sbagliata Perché Il game design Viva L'amore Per me stesso E altre tante cose Che attualmente Non possiedo più Ok Mi sembra Soprattutto molto Difficile Ciclare Tra questi cosi Però non attualmente È complessa Come qua Prendo bene il ritmo Ed è fattibile Sì Ripracciamo Sì Sì È soltanto Complesso Girarci C'è neanche complesso Prendi un attimo il ritmo E lo fai Ecco Oddio 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 Poi mi richiede Sì sì Lo rifacciamo Quando abbiamo una chiave Non è un problema Qui invece Sembra una chiave richiesta No Qua ti danno la chiave Sì però aspetta Chiave Dolce chiave Carinissima Eh Però Un due Il tumore Prima da raccogliere Poi il resto Secondario Ah bello Ci sono le spine sul muro alto Non l'avevo notato Grazie Sono saltellini Perché 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 Continuo a soffrire Serio 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 Alla fine di questo gameplay Impazzirò Mi chiedo quando c'è il primo finale disponibile In questi momenti È evoluto Però io Ho chiuso gli occhi Grazie gioco A me non me la rendi un pochettino più facile Ma il problema intanto è prendere questa chiave E tornare indietro Vero? Sì Vabbè Vabbè senti Fanculo Speed run Porco Porco Ok 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 scusate problemi tecnici vorrei tanto avere un editor perché qua li avrei messo i problemi tecnici io non lo faccio perché prende troppo tempo in confronto alla visual di quanti guardano il video al fatto che non vengo pagato perché mi sono levato anche la partner tra tutte le cose ma semplicemente perché mi stressavo su certe cose extra così non mi stresso però ogni tanto veniva la voglia di fare video che non erano presente che non avevo presente voglia di fare e fare promesse che non devo fare come si faccio il prossimo video di Yahoo si faccio Yahoo ecco perché il soldo gli scritti le visualizzazioni a meno così faccio quello che volevo fare in principio che era giocare ai videogiochi parlarne cazzeggiando spavendo due battute tristi ogni tanto ciao e via ok recuperata la chiave tutto diventa un mondo molto meno solare no in realtà è uguale direi un altro paio di livelli tipo questo dipende da quante da quante parole faccio cicchino sopra posso attualmente passarci sotto? no ok però è una domanda assolutamente legittima vi chiedo scusa ma mi sembra un po' palese che sia una domanda assolutamente legittima questa poi quello lì non so se voglio sapere com'è si fa raccoglierlo perché non ne vedo troppo il metodo fammi entrare e uscire perché il mio salto si finiamo il livello tanto ok il mio salto non mi sembra assolutamente a tempo con la cosa però adesso dobbiamo soltanto aspettare che questa piattaforma sicura ritorni e poi non abbiamo neanche più il problema di tante cose aspettiamo qua fatto racconto che questo tumore con 224 allora ultimo livello questo la questo 29.09 basta ho dato metà del mio fegato anche oggi quindi qua non è tutto spero che vi sia piaciuto se è piaciuto il video vi ricordo i commenti lasciami un piacere è tutto si dovrei fare questo video in post commentary ammetto che dovrei farlo in post commentary quando faccio queste giocate però va bene non fa nulla non ho il tempo di fare in post commentary quindi e youtube è arrivato l'edito di youtube che mi permetteva tanto di usare l'edito di youtube invece dovrei stare a guardare il mio pc che ci mette a fare una renderizzazione in full hd possibilmente 60 fps perché si mette a fare renderizzazioni per cominciare a registrare 60 fps però quali sono dettagli non è che ci mette così tanto però sul tempo ci mette così tanto in rapporto a visual e tempo perso non che ci sia troppo tempo verso però mi rallenta leggermente mentre faccio esercizi di programmazione giusto perché ci mette qualche secondo tipo a correre esercizio eccetera non che non regga però mi dà fastidio mi piglia male quindi di solito chiudo lascio la notte la notte fa un casino cioè proprio fa il rumore mi disturba un pochettino il sonno quel giorno dopo sono stanco eccetera eccetera serie di problemi stupidi che riguardano solo me in ogni caso qua dal video è tutto ciao ragazzi a un prossimo video ciao